Non sapevo di essere in auto con Matteo Messina Denaro, solo un pazzo lo avrebbe accompagnato sapendo che fosse il boss. Così si era difeso Giovanni Luppino, autista e fiancheggiatore del capo di Cosa Nostra, arrestato insieme al super boss latitante per 30 anni nella giornata di lunedì 16 gennaio di un anno fa. Luppino nel frattempo è finito sotto processo e il procedimento adesso per lui si sta complicando. Sì, perché un imprenditore trapanese ha deposto al procedimento in cui Luppino risponde di associazione mafiosa raccontando che l'imputato nel novembre del 2022, pochi mesi prima della cattura di Messina Denaro, gli aveva chiesto il pizzo per conto del padrino di Castelvetrano. Mi propose un incontro dicendomi di lasciare a casa il cellulare e poi mi chiese un aiuto economico per Messina Denaro, ha raccontato smettendo la tesi difensiva di Luppino che prima ha sostenuto di non conoscere la vera identità dell'uomo a cui faceva d'autista, poi di avere scoperto che dava passaggio al padrino solo in un secondo momento. Io rifiutai di pagare, ha detto il testimone rispondendo alle domande del pubblico ministero Gianluca De Leo, dissi che certe cose non le facevo e che se fosse accaduto qualcosa a me o ai miei familiari sarei andato dai carabinieri. All'imprenditore gli inquirenti sono arrivati attraverso le intercettazioni, l'uomo si sarebbe lamentato della richiesta di pizzo al telefono. Luppino alla scorsa udienza aveva chiesto di essere sentito dal giudice per le indagini preliminari. Andrea Bonafede, mio compaesano che non frequentavo abitualmente nel 2020, mi presentò un uomo sostenendo che fosse il suo cugino, chiedendomi di accompagnarlo a Palermo per delle cure, aveva detto Luppino. Un giorno però il passeggero conosciuto col nome di Francesco si sentì male durante uno dei viaggi per il capoluogo e all'invito di Luppino di andare in ospedale avrebbe detto portami a casa, sono Messina Denaro, non posso andare in ospedale. Da quel momento, per ragioni umanitarie così si è giustificato, sapendo che il boss era gravemente malato, l'imputato avrebbe continuato ad accompagnare alle terapie il padrino che gli avrebbe di volta in volta lasciato nella cassetta delle poste un biglietto con l'orario dell'appuntamento successivo. Una versione che per gli inquirenti fa acqua da più parti, Luppino ha negato di avere rapporti di frequentazione con Bonafede e con la cugina Laura, altra favoreggiatrice del boss, ma gli investigatori hanno scoperto che la donna ha battezzato i figli dell'imprenditore. Dalle analisi delle celle telefoniche dell'autista risultano oltre che questi avrebbe portato il capo mafia in clinica per ben 50 volte in due anni.